Ciao a tutti e bentrovati in 101 secondi Viola di Fiorentina1.com La Fiorentina vince, è una stagione pazza, è un finale di stagione assolutamente pazzo perché per i Viola in questo momento ancora le porte dell'Europa League non sono completamente chiuse continua a segnare Babacari, il giocatore sul quale Corvino, la società Viola hanno deciso di puntare per la prossima stagione per quanto riguarda l'attacco Viola Babacari ha una media goal impressionante, è un giocatore che si sta rivelando davvero utile che sta migliorando, che sta crescendo, forse anche Sosa in questo ha sicuramente dei meriti Babacari è il giocatore dal quale ripartire per una Fiorentina che vorrà spendere meno dal punto di vista dell'ingaggio dei giocatori Babacari ha già un stipendio abbastanza importante e sicuramente è il giocatore, è l'attaccante che Pioli cercherà di sfruttare al meglio nel ruolo di prima punta Babacari ha una media realizzativa impressionante ma è anche un giocatore che sta giocando meglio per la squadra sta giocando meglio insieme agli altri compagni d'attacco vedremo accanto a chi giocherà perché Bernardeschi sembra sempre più vicino al rinnovo ma potrebbero esserci altre soluzioni in attacco con la possibile cessione ormai praticamente sicura di Kalinic per il resto vedremo che campionato sarà in queste ultime due partite sicuramente a Napoli la Fiorentina difficilmente potrà spuntarla l'Europa sembra vicina in questo momento ma è comunque lontana e forse sarebbe anche meglio così programmare al meglio la prossima stagione senza impegni europei a domani con i 101 secondi viola un saluto da Marco Dell'Olio grazie a tutti grazie a tutti